Ora siamo in lotto, siamo in lotto, abbiamo vittato l'Ajel, abbiamo vissuto due o tre attraveramenti, ho fatto attraverso l'entraverso, per esempio con i volontari, con il match con l'Hermastad che andiamo a lupare per la retrogradaria, mi sembra il penultimo match di sezione, dove mi ha dato il gol, dopo abbiamo castigato la sfarsita, abbiamo salvato la matematica. Io conosco il giocatore, noi in un certo momento abbiamo bisogno di scelere un giocatore a colo in attacco con un omito profilo, ci vediamo, giudiciamo dopo a Iarna, io credo che è un giocatore che si potrebbe, si pliese, scusate, si è pliese dentro il nostro stile, nostro, ci abbiamo in plus che Kevin Soni, che è un giocatore che è d'impagato e ne ha venuto pregato tutti. Darci, appunto, adesso siamo in generale, bene, ci sono... Allora, per esempio, in una o due settimane, potremmo essere dopo la pausa, potremmo essere in lotto.